Oggi vi presentiamo come rigenerare il menù per il cenone di Capodanno della Braseria. Primo antipasto, laterina di salmone, un piatto freddo, basta metterla nel piatto e guarnirla con le chips. La patata gratinata va scaldata in forno con il grill per 10 minuti a 180 gradi, impiattata e guarnita con le cialde di barbabietola. I tortelli di mardole amare potete saltarli in padella con un goccio d'acqua e riscaldarli oppure passarli 20 secondi al microonde. Il cappello del prete di Angus col tortino di patate. Il tortino di patate va scaldato in forno per 10 minuti a 180 gradi. Il cappello del prete lo immergete la busta nell'acqua che so bolle per 10 minuti, dopodiché viene impiattata. Il cotechino va scaldato nell'acqua che so bolle per 10 minuti con le lenticchie. Ed è pronto per essere servito. Il menù è pronto. Buon appetito a tutti. Buon capodanno dalla braseria. Buon appetito a tutti.